prova prova il grandissimo vi presi presenta in telecamere in hd deve fare una prova per vedere se comprare nuova attrezzatura di fumo che lo farò ciao a tutti i cari ma fa paura perché esistevo un nemico naturale che cazzo l'ha detto che ho scusa quasi devi far fare la voce narratore da uno che ha la voce da narratore capito mi sono caduti i pezzi lo rifaccio tu devi guardare qua ah io devo guardare là? si io sono il grandissimo profeta del maestro aspetta si si fai tranquillo ripetimela che cazzo l'ha detto che il film z non è canonico? che cazzo l'ha detto? ok che cazzo l'ha detto che il film z non è canonico? devo guardare? aspetta ne faccio tanti capito? io tu continui a registrarlo questo è il film che cazzo l'ha detto 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 che cazzo è un po' di questo Grazie.